Tornano ad accendersi i riflettori in uno dei quartieri più difficili della città, da sempre terra di nessuno, tra degrado, abbandono e problemi cronici di ordine pubblico. Stiamo parlando del quartiere di Rancitelli a Pescara, dove grazie all'associazione per una nuova Rancitelli coordinata da Francesca di Credito, domani sera alle 19.30 davanti ad un luogo simbolo delle mille contraddizioni della zona, ovvero i palazzi clerico, si terrà una manifestazione di protesta. Una manifestazione è quello che vuole riportare l'attenzione su questo quartiere. Ovviamente se non abbiamo soluzione andremo avanti, perché anche se non abbiamo potere a livello legale, a livello formale, noi ci vogliamo far sentire, perché siamo i cittadini e i residenti di questa città e pretendiamo legalità. Stessa situazione di degrado, anche i palazzi Atene in via Tronto e via Tavo, bloccati da oltre 20 anni, tra incuria sporcizia ed abbandono. Giuliano, qui quotidianamente si vive una situazione davvero difficile, ti affacci dal balcone e vedi un po' di tutto. Ieri mi raccontavi un episodio particolare, che cosa è successo? Allora, io ero alla fermata dell'auto per andare al mare. A un certo punto, guardando questi palazzi, ho visto una ragazza in mutandina e senza reggiseno buttare di sotto un secchio d'acqua. Probabilmente si era lavata. Chi conosce bene la situazione è Don Massimiliano De Luca, parroco della Chiesa degli Angeli Custodi. Che quotidianità si vive Don, Max? Una quotidianità fatta anche di persone che cercano di vivere una vita normale, che però in questo quartiere è difficile. Questo quartiere è nato dal niente negli anni del dopoguerra, ha vissuto un periodo di floridezza fantastica negli anni Ottanta, poi dal 2000 c'è stato il declino. E molte di quelle persone che avevano creato questo quartiere, che poi hanno lasciato le case vuote, queste persone non sono state rimpiazzate dai nipoti. Quelle case sono rimaste vuote perché qui oggi non vuole venire a abitare nessuno, perché nessuno vuole condividere la propria esistenza con una criminalità che sicuramente fa sentirla sua. Quindi un calo demografico preoccupante. Come invertire questa situazione? Allora, prima di tutto bisogna eliminare il male, ma non basta. Io dico sempre che non basta levare il male, bisogna mettere il bene, bisogna riportare vivibilità nel territorio e fare in modo che tutti coloro che vogliono qui venire ad abitare possano trovare un ambiente vivibile. Questo è l'importante. Riportare la medesima vivibilità che ci può essere a Pescara Cento, che ci può essere a Pescara Colle. Qui la scuola sta chiudendo. Qui abbiamo 54 funerali e 12 battesimi. I numeri sono questi. Ti fanno capire che qui le famiglie giovani non ci vogliono venire ad abitare. Possiamo aprire un asilo. Per chi? Possiamo aprire una casa di riposo. Eh sì, quella si serve. Ma purtroppo qui c'è tanta vecchiaia, tanta solitudine, tanta e tanta povertà. Tanta. Soltanto la nostra parrocchia gestisce di parrocchiani ben 93 famiglie assistite dalla nostra Caritas Parrocchial. 93, che è un numero esorbitante. L'abbattimento del ferro di cavallo, ma ancora i palazzi Clerico e poi gli ex Ater vicino un grande magazzino. Sono tutte, come dire, bombe sociali che devono essere disinnescate. Come? Allora, prima di tutto l'errore fu a Monte quando si fece un concentrato di case popolari sul nostro territorio che arrivavano quasi a 800 appartamenti. Nel giro di 3 km quadrati, che è un numero esorbitante. È la follia pura perché tu vai a creare dei ghetti che poi diventano ingestibili. Tant'è vero che al ferro di cavallo bisognava entrare con le forze dell'ordine, ma in forze. Poi qui vengono tutti quanti persone che vengono arrestate e dopo pochi mesi di nuovo a casa. E si ricomincia il tran tran quotidiano. Si ricomincia con lo spaccio, si ricomincia con l'usura, si ricomincia con le estorsioni. Questo non è microcriminalità. Occhio, eh. Poi stiamo parlando di criminalità organizzata che gestiva l'occupazione abusiva delle case. La famigliola che ti occupa la casa perché non ha un tetto sulla testa è una favola da cenerentola. Qui l'occupazione abusiva era gestita e tu non potevi occupare una casa senza il permesso di. E questo è importante saperlo.